Valutare e orientare le strategie amministrative e la spesa pubblica secondo criteri di pari opportunità. Questo è lo scopo del bilancio di genere della Regione Piemonte, curato dall'IRES e presentato nella sua terza edizione a Palazzo Lascaris, mercoledì 7 marzo. Sono intervenuti l'assessore regionale agli enti locali Elena Maccanti, il consigliere regionale segretario Gianfranco Novero e le rappresentanti dei principali organismi di parità della Regione. Oggi sono molto lieto di presiedere la presentazione del bilancio di genere. Cos'è un bilancio di genere? È un bilancio che mette l'attenzione sugli interventi che sono stati fatti con un occhio al genere femminile. Cioè capire cosa abbiamo fatto, quali impatti sul genere femminile ci sono stati, positivi o negativi. Negativi dobbiamo migliorarli, positivi dobbiamo migliorarli ugualmente. Noi tenderemo a usare questi dati per migliorare comunque la situazione femminile. È una vera soddisfazione dal punto di vista amministrativo essere stata direi tra virgolette la madre del bilancio di genere perché abbiamo cominciato con la prima edizione nella scorsa legislatura, adesso siamo alla terza. È un modo per orientare tutte le politiche regionali e i fondi regionali a una politica di pari opportunità e di genere su tutte le materie su cui la Regione è competente. Una realtà veramente innovativa.